Assaggia i sapori tipici locali al Ristorante Pizzeria Vittorioso di Nocera Inferiore. Ristorante Pizzeria Vittorioso è pizza da sporto, gastronomia per eventi, rosticceria e frigitoria. Ristorante Pizzeria Vittorioso, sala interna climatizzata, buffet da esterni, pranzi da sporto, rosticceria artigianale. Venite ad assaggiare le pizze della casa, Vittorioso, Pierino e Marlene. Ristorante Pizzeria Vittorioso, in via Giacomo Canale 21, a Nocera Inferiore. Chiuso il martedì.